Eccoci tornati a Dica 33. Adesso parliamo di tumore al seno. Lo facciamo con il dottor Alberto Massocco che è responsabile della chirurgia senologica dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Buonasera. Buonasera. E ben ritrovato a lei. Senta, il tumore al seno, purtroppo i dati ci dicono che c'è un aumento del 30% rispetto a qualche anno fa nelle giovani donne e soprattutto che la situazione nel nord Italia è peggiore rispetto al sud. Questo vedremo poi anche per effetti che riguardano il modo di vivere, l'ambiente che ci circonda e quant'altro. Innanzitutto diamo un messaggio di speranza perché è vero che sono cresciuti i casi ma è anche cresciuta la percentuale di risoluzione di questo tumore perché se preso in fase precoce si può tranquillamente guarire. Giusto dottore? È vero. La diagnosi precoce è l'arma più importante. Al giorno d'oggi con diagnosi precoce e terapie complementari, terapie mediche, chemioterapia, terapia orbonale, terapia con anticorpo monoclonale, radioterapia a 5 anni prendendo i tumori di tutte le dimensioni sono guarite il 90% delle donne. Quindi è un risultato molto buono. I casi sono senz'altro in aumento soprattutto nelle donne giovani e soprattutto nelle regioni del nord. Ma nonostante questo si assiste ad una lenta ma graduale calo della mortalità. Senta dottore, ma una donna può avere una familiarità della neoplasia al seno? Può vivere in un ambiente che ci circonda, come dicevamo, magari ad un livello di inquinamento molto alto? Può avere uno stile di vita fatto di molti fattori di stress, di un'alimentazione sbagliata. Tutto questo può ingenerare l'insorgere di questa neoplasia. Ma perché si sta manifestando sempre così con maggior frequenza? Sono aumentati i fattori di rischio e il tipo di vita che facciamo e l'ambiente in cui viviamo. D'altronde le donne che vivono qui al nord hanno maggior rischio di ammalarsi delle donne che vivono al sud. È l'ambiente che ci circonda che aumenta il rischio di ammalarsi. Senta, e invece per quanto riguarda la genetica, che cosa si può fare? Si può capire precedentemente se qualcosa sta cambiando? Abbiamo avuto personaggi importanti nel mondo dello spettacolo che addirittura hanno fatto interventi preventivi capendo che qualcosa si era mutato nel proprio corpo. Certo, è il caso di Angelina Jolie. Alcuni tipi di tumor della mammella, rari ma ci sono, sono non ereditari, ma si eredita il rischio di ammalarsi. Sono interessati due geni, si chiamano BRCA1 e BRCA2. Le donne che hanno una mutazione di questi geni hanno ereditato il rischio di ammalarsi. È un rischio abbastanza alto, va dal 50% all'80%. E questo significa che cosa? Che sono casi un po' limite oppure no? Cioè bisogna preventivamente farsi operare e togliere la ghiandola mammaria? Allora, prima di tutto bisogna identificare le donne che possono avere questa mutazione genetica. Di solito sono donne che hanno una forte familiarità per tumori della mammella e per tumori delle ovaie. Oppure donne che si ammalano di un certo tipo particolare di neoplasia, raro per fortuna, che si chiama triplo negativo. Sono tumori molto aggressivi e quando si sviluppano questo tipo di tumori si va sempre a cercare di vedere se questa donna ha questa mutazione genetica. Ecco, se è presente bisogna appunto intervenire in questa maniera molto precoce, no? Viceversa, non è che una donna perché ha una familiarità deve sottoporsi a un intervento pre-comparsa del tumore, no? Vogliamo dare un'informazione corretta senza spaventare nessuno? Assolutamente no, questo è assolutamente controindicato. Le donne che hanno solo questo tipo di mutazione genetica possono essere sottoposte ad un intervento chirurgico di mastectomia profilattica, ma non è indispensabile, anzi si può anche fare un programma di sorveglianza che sono esami strumentali in tempi molto ravvicinati per individuare un eventuale tumore della mammella quando è ancora molto piccola. Ecco, a tal proposito la prevenzione è essenziale in questo settore? La prevenzione si fa con esami senologici strumentali cadenzati e che una donna deve fare durante tutta la sua vita riproduttiva e anche dopo. Senta, adesso anche all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar c'è una metodologia che è innovativa, che è quella di effettuare l'esportazione della ghiandola mammaria e di effettuare già una chirurgia plastica ricostruttiva. Significa che non passano mesi e non c'è un intervallo di tempo tra appunto l'asportazione e l'eventuale inserimento di una protesi. Questo significa che si tratta di un'unica operazione e quindi meno invasiva e naturalmente dottore c'è anche meno impatto psicologico nella donna che si ritrova appunto senza ghiandola mammaria. Certo, quando la forma e il volume della mammella lo consente si può fare l'intervento chirurgico di mastectomia e ricostruzione completa nello stesso intervento chirurgico, ma di più si può conservare il complesso areola capezzolo, quindi la donna esce dalla sala operatoria con la mammella completamente ricostruita. E questo è un traguardo importante che è stato fatto, quindi significa che c'è un'equip di persone che lavora attorno a questo tipo di neoplasia, cioè non c'è solamente il chirurgo, il senologo, ma c'è ovviamente l'oncologo per forza di cose, ma anche il chirurgo plastico in questo caso. Senz'altro il team multidisciplinare composto da chirurgo oncologo, chirurgo plastico, oncologo, radioterapista, patologo e radiologo aumenta le possibilità di guarigione di una donna, ma questo è scientificamente provato. Nel caso specifico in sala operatoria va il chirurgo oncologo e il chirurgo plastico. Il chirurgo oncologo, nel caso di cui stiamo parlando, toglie il rischio di ammalarsi, mentre il chirurgo plastico ricostruisce poi la mammella con delle protesi ed anche con un nuovo device che è una protesi biologica. Senta, ma c'è la possibilità di effettuare una radioterapia, una chemioterapia pre-operatoria che significa che l'operazione chirurgica può essere meno invadente perché la neoplasia sia ristretta? Si tratta della chemioterapia, la radioterapia si fa sempre dopo l'intervento chirurgico, ma la chemioterapia in caso di tumori piuttosto aggressivi e di dimensioni piuttosto grandi può far ridurre la massa in maniera da consentire di fare una chirurgia minore conservando la mammella. E quindi questo ci dà anche una buona speranza che l'intervento chirurgico non sia così invasivo, no? La prevenzione ci porta a fare interventi chirurgici meno invasivi e che aumentano la possibilità di guarigione di una nonna. I tumori che non sono palpabili dopo 5 anni sono guariti al 98%. Perché ci può essere anche una sorta di autopalpazione e anzi voi lo consigliate spesso alle donne, se c'è qualcosa che non va fatevi sentire, ma se si arriva alla prevenzione quando il nodulo è inferiore ad esempio al centimetro si riesce a debellarlo, no? Più la malattia è piccola meno l'intervento invasivo e di più maggiore la possibilità di guarigione. Se è più alto invece naturalmente si diminuisce la percentuale di sconfiggere questa malattia. Però la prevenzione ultimamente aiuta a non arrivare con un neoplasia molto vasta. Senz'altro. È importante sottoporsi ad esami periodici, è importante individuare neoplasia quando sono ancora piccoline e questo, non mi stancheremo mai di dirlo, aiuta a guarire più donne. Senta, c'è anche una innovazione per quanto riguarda i linfonodi. Alcune volte si dava per scontato che i linfonodi ascellari dovessero essere asportati tutti, ora si risale al famoso linfonodo sentinella e ci spieghi bene o ad asportare solo questo oppure laddove non ci sono sintomatologie di presenza tumorale a lasciare le cose come stanno? Certo, la storia della chirurgia del trattamento del tumore della mammella è andata dal massimo tollerabile al minimo efficace ed il trattamento dell'ascella nelle donne ammalate ha seguito la stessa via. Si è andati dall'asportazione sempre di tutti i linfonodi ascellari a quella che è in uso adesso, ovvero la biopsia dell'infonodo sentinella. Si tratta del primo linfonodo ascellare che può ricevere le cellule ammalate dalla malattia, che si esamina durante l'intervento chirurgico e che se non risulta ammalato consente di conservare tutti gli altri. Ma ancora di più il futuro probabilmente sarà quello di conservare tutti i linfonodi quando non sono evidenziati ammalati prima della sala operatoria, anche se il linfonodo sentinella sarà ammalato. Sono in corso degli studi al quale partecipa anche la mia unità operativa che sono volti a dimostrare questa cosa. E questo significa anche che poi la vita futura della donna avrà meno complicanze perché togliere i linfonodi significa appunto togliere anche quello che raccoglie la linfa dell'attività dell'intero braccio. Una volta il braccio può gonfiarsi e può rimanere tale anche dopo l'operazione per moltissimi anni, no? Certo. L'asportazione dei linfonodi ascellari può causare il blocco della linfa che viene dal braccio a livello dell'ascella e quindi il braccio si gonfia, si chiama linfedema, va trattato lungamente e in qualche caso si riesce a farlo guarire, in qualche altro invece si può solo controllare. Il 10% circa delle donne che tolgono tutti i linfonodi ascellari avrà una certa forma di linfa edema. Allora, lei ci ha dato delle buone notizie, alle signore che ci stanno seguendo da casa diciamo mi raccomando la prevenzione, avvicinatevi agli esami di agnose, almeno una volta all'anno in modo da capire che se c'è qualcosa che non va può essere preso in tempo e può essere guarito, no? Anche se la chirurgia in questo caso è necessaria, ma come avete capito c'è una chirurgia poco invasiva che può aiutare anche attraverso la ricostruzione a riprendere il proprio cammino. Allora, grazie dottor Alberto Massocco che è intervenuto con noi questa sera, che è responsabile della chirurgia senologica dell'ospedale Sarco Cuore Don Calabria di Negrar, ma anche presidente della Lilt di Verona, ecco questo l'abbiamo tenuto in fondo, ma insomma per dire che è impegnato su più fonti. Allora, noi ci lasciamo per un po' di pubblicità e poi la nostra trasmissione prosegue, a tra poco. Grazie a tutti.